benvenuti alla rassegna stampa di oggi oggi è giovedì 5 ottobre questo è il canale 17 di fano tv che trasmette in tutta la regione Marche e al mattino alle 7.30 c'è la rassegna stampa un'occhiata ai giornali i giornali sono delle edizioni di Pesaro e Urbino andiamo a vedere anche quelli di Ancona e quindi tra poco vedremo i titoli delle notizie più importanti andiamo a vedere adesso il santo del giorno oggi è una santa molto famosa molto conosciuta una santa polacca che visse anzi morì a ridosso all'inizio della seconda guerra mondiale alla vigilia della seconda guerra mondiale 1938 Santa Faustina Kovalska la postola della divina misericordia il sole sorta alle 7.10 tramonterà le 18.43 il tempo per oggi sarà un tempo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento quelle massime in diminuzione quelle minime attenzione ai venti che aumenteranno nel corso della giornata domani invece il tempo peggiora venerdì vedete nel pomeriggio rovescio temporale sparsi in transito da nord verso sud e localmente saranno anche di forte intensità le temperature saranno in diminuzione i venti di brezza tesa poi ruoteranno da nord est sabato 7 ottobre il tempo sarà migliorerà dunque siero sereno poco nuvoloso qualche breve e isolato piovasco soltanto in montagna ma limitatamente alle zone meridionali e nelle ore centrali della giornata un probabile transito di una debole saccatura nelle giornate di domenica e lunedì porteranno tempo variabile poi il tempo migliorerà invece da martedì in poi telecamere dimezzate questa è la notizia sul resto del Carlino sono quelle che controllano e vigilano sulla città di Pesaro il grande fratello cittadino se la passa male però perché di 66 occhi 40 non danno immagini adeguate al controllo di sicurezza e dunque il comandante dice che si interverrà l'ordine dei medici accusa free vax minacciano i pediatri il presidente dell'ordine dice i test richiesti non sono previsti dalla legge e secondo la regione non possono essere gratuiti dobbiamo tutelare i colleghi pediatri i colleghi medici che spesso vengono anche assaliti da questi genitori che vorrebbero pretenderebbero prestazioni che invece sono a pagamento l'uomo con il macete il cuoco con la catana anzi ci ricade minaccia la parte civile dice me la pagherete e poi sotto azzannata dal Doberman donna suturata per due ore all'ospedale allora è stata azzannata questa è la notizia pagina 7 del resto del carlino è stata azzannata una quarantenne di Pesaro dal suo cane che stava curando per un dolore ad una zampa improvvisa la reazione dell'animale è stata ricoverata questa donna in ospedale con lacerazione alla testa e al collo la pagina di Fano invece sui giovani abbiamo fatto molto di più di chi ci ha preceduti parla Edoardo Carboni che replica alle critiche e poi l'Accademia del Tartufo a Sant'Angelo Invado da noi ha avuto tutto dice il primo cittadino Gian Alberto Luzzi la replica appunto l'intervista e poi a Cagli è morto Marcello Mocchionori cordoglio della politica è morto ieri mattina all'età di 71 anni il segretario generale della conferenza delle regioni fratello della storica dell'arte Lorenza Mocchionori di origini cagliesi hanno tuttora una proprietà anche a Smirra dove amavano rifugiarsi da sempre però viveva a Roma la pagina delle Marche invece racconta della cattura di un vandalo quello che prendeva di mira soprattutto le chiese siamo a Dosimo in provincia di Ancona ero spinto dai demoni dice lui aveva terrorizzato praticamente tutta la città ruppe anche l'auto di un prete i danni sono stati ingenti le vere vittime sono però i suoi genitori nella fotografia due sacerdoti oltre che la chiesa di San Carlo i parroci in alto sono Don Fabrizio Mattioli e sotto invece Don Paolo Sconocchini andiamo adesso sulla pagina di Urbino del Restore Calino Università il rettore Vilberto Stocchi ha siglato l'accordo Urbino-Mosca nuove possibilità di scambio con la Russia per studenti e docenti sempre da Urbino invece la pagina del Corriere Adriatico è per il caso Canile il CUT, la lista civica non molla, soldi pubblici all'associazione il gruppo mette sotto accusa i fondi destinati al legambiente per la gestione apriamo adesso invece la prima pagina del Corriere Adriatico perché il Corriere questa mattina racconta di una casa disabitata perché chi l'abitava prima è morto però le bollette che continuano ad arrivare ai parenti evidentemente non ha dei consumi alti quindi non c'è solo come racconta il giornale questa mattina soltanto le tariffe basi insomma non ci sono soltanto i costi fissi e per esempio il canone della RAI che tutti dobbiamo pagare ma ci sono anche degli importi che crescono di bollette in bollette l'ultima che è arrivata qualche giorno fa racconta il giornale non era un avviso normale era semplicemente la Costituzione in mora con un preavviso di azione giudiziaria per il mancato pagamento di 5 bollette straziante denuncia invece a centro pagina andiamo nelle zone terremotate di Ussita una donna che denuncia un'anziana terremotata la sfida della sfollata malata di tumore negato il contributo per l'autonoma sistemazione perché era in convalescenza dai figli storia di ordinaria burocrazia oggi però a Fano è il giorno di Confindustria ed è il giorno di Mauro Papalini che vedete in questa fotografia il candidato presidente di Confindustria Provinciale l'imprenditore 52enne presidente della Papalini S.P.A. azienda di servizi fanese che conta 2.300 dipendenti che chiuderà il 2017 con un fatturato intorno ai 46 milioni di euro è stato indicato dai tre saggi ovvero Paolo Andreani, Gastone Bertozzini e Marco Montagna come presidente della sede territoriale di Pesurubino e di conseguenza come vicepresidente di Confindustria Marche Nord e oggi al Teatro della Fortuna dopo l'elezione che appare appunto scontata inizierà al Teatro della Fortuna alle 5 e mezzo di oggi pomeriggio la cerimonia pubblica e tutta la pagina è dedicata a questo importante appuntamento Ricci, il sindaco di Peso dice è rimasta la cultura del fare Seri, Fano, così cresce i due sindaci intervengono con le iniziative dei comuni a Fano invece gli interquartieri finanziati i miglioramenti della viabilità la finalità è quella di recuperare la sicurezza a tutela anche dei residenti del quartiere Poderino nella Valle del Cesano invece da Mondolfo il campo sportivo ora rinasce pronti i lavori da 210 mila euro via libera al progetto esecutivo parere positivo del CONI diventerà la casa del calcio A8 e andiamo sull'altra pagina della Valle del Cesano telecamere intelligenti nei quattro municipi video e sorveglianza siamo a terre roveresche video e sorveglianza in questo comune serviranno anche per leggere le targhe il comune attingerà ai fondi europei in fase di progettazione anche rotatorie e dissuasori poi dalla prima pagina o meglio dal Corriere Adriatico Pesero I piano si parla di accoglienza nelle famiglie sì della Giunta approvata la delibera ispirata dalla proposta di Perugini presto il bando comunale che verifica le disponibilità e sotto invece la questione della rottura tra il prefetto e i 13 sindaci che come abbiamo detto ieri, letto ieri sul Carlino sono stati denunciati oppure comunque oggetto di presentazione da parte del prefetto di un esposto in procura interviene l'onorevole Giorgia Meloni che si è dichiarata al fianco delle forze dell'ordine e di quei sindaci della provincia di Pesero Urbino sul tema della sicurezza e sull'accoglienza dei migranti Meloni contro il prefetto la leader di Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulla reazione di Pizzi alla lettera dei 13 sindaci su sicurezza e migranti ieri ancora controlli di fronte agli istituti scolastici per vedere se c'era del fumo negli zaini degli studenti Ebro, che è il cane della Guardia di Finanza annusa, trova ancora marijuana ma è per consumo personale il servizio antidroga dei poliziotti e dei finanzieri davanti all'istituto Benelli è stato segnalato uno studente da Senigallia si discute molto di questa pinetina questa area verde che verrà rasa al suolo da quello che si è capito nei giorni scorsi le scelte non sono state condivise anche l'assessore si dissocia Giro Lometti di Città Futura dice l'abbattimento degli alberi andava approfondita sulla gestione del verde chiediamo un progetto organico non solo motoseghe andiamo adesso sull'altra pagina di Senigallia i ladri brindano con lo champagne colpo al caffè bicchia svuotata la cassa e rubate alcune bottiglie di bollicine quinto furto al corinaldesi la gang in fuga dalla villa del capitano Moscatelli l'altra pagina è per un lutto anzi ce ne sono due il primo è quello che riguarda e che ha sconvolto la comunità di Barbara Barbara la comunità in lutto per la morte di questa donna di questo architetto Ilaria Arcangeli che è mancata a 39 anni a meno di un mese dalla immatura scomparsa di un altro architetto di Jessica Micucci di 46 anni i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 il rito che avrebbe dovuto celebrarsi nella piccola chiesa di Santa Barbara sarà quasi sicuramente dirottato sulla piazza esterna come per Jessica e l'altro lutto invece lo trovate sotto all'ultima nell'altra pagina di Senigallia è morta a 77 anni colta da malore improvviso Anna Maria Mazzanti che si è spenta ieri mattina nella sua casa di Ostra a 77 anni è una storica bagnina la vedete in questa fotografia ha fatto prima il pranzo il pranzo di fine estate poi è stata colta da malore chiudiamo con le due pagine sportive ieri ci sono stati si è giocato il calcio infrasettimanale allora il Fano il Fano che ci crede ma non basta ha perso a Vicenza 2 a 1 la partita appunto K.O. a Vicenza il team Granata torna a casa sconfitto e a mani vuote dunque il Fano che va in caduta libera mentre anche per il Fano anche per la Vispesero ieri c'è stato un altro stop dopo la sconfitta di domenica un'altra partita persa una buona Vis che però cede al Rimini in 10 ha giocato la Vis espulso il portiere Stefanelli dominano senza concretizzare il risultato Rimini 1 Vispesero 0 ok questa era la rassegna stampa di oggi noi ci fermiamo qui vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che il 338 4968 250 è a vostra disposizione per le segnalazioni che come sempre sono numerose durante il giorno e noi vi ringraziamo davvero di cuore per questa collaborazione così importante preziosissima e generosa con la nostra redazione ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla notizia buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.